In questi giorni di festa, in questi giorni natalizi, si cerca di sorridere, si sorride, si è incline alla bontà. È vero, però io in questi giorni sento anche la mancanza delle persone che non ci sono più, i familiari. Penso a mio padre, a mia madre, a mia zia Irene, ai parenti tutti, ai nonni e agli zii e avverto un vuoto, un vuoto d'immenso. Tanti ricordi, davvero così, si affastellano, mi travolgono a valanga. Penso a mio padre, in quei giorni intento a fare la spesa, appena tornato dal lavoro, era sotto ufficiale di Marina, me lo ricordo ancora in divisa, smontava, arrivava a casa e poi procedeva. Era solito andare a Piazza Fadini a comprare tutto. Penso a mia madre, in tenta, in casa, a preparare il salone con la tovaglia elegante, quella tipicamente natalizia, con gli altri parenti. Penso a mia mamma che la notte tra il 24 e il 25, anche quando eravamo grandi, io e mia sorella, era solita lasciare i doni di Natale sotto, proprio ai piedi del letto, come se arrivasse Babbo Natale. Penso a mia zia, zia Irene, sempre precisa, impeccabile nelle sue cose. Penso ai parenti di mio padre, a mio nonno Luigi, a zio Felice, erano persone che sentivano il Natale, loro sono della provincia di Napoli e da quelle parti si sente forte il Natale. Penso a zii che non ci sono più, zio Osvaldo, zio Franco, ma potrei continuare così all'infinito, i nonni. Che dire, c'è però una consolazione che queste persone ora sono giuste tra i giusti. Io sono un credente, non sono un praticante, vivono certamente in un'altra dimensione, guarderanno dall'assù le nostre miserie umane, le nostre miserie terrene e il pensiero va a loro. Vedete, io avverto questa mancanza, motivo per cui proprio in questi giorni di Natale ho deciso di non stare a Taranto, di non essere a Taranto. Sono andato in Emilia Romagna da amici, proprio per non avere quei ricordi, non sentire quel posto vuoto a tavola, quella sedia vuota. Ecco, per questo. Però voglio ricordarvi per quello che siete stati, per la vostra dolcezza, per la vostra bontà. Dall'assù proteggete il mio e il nostro cammino. Auguri mamma, auguri papà, auguri zierine, auguri parenti tutti.